In questo secondo incontro noi finiamo di dare una pennellata alla visione generale degli arti e degli apostoli e poi incomincieremo a leggere proprio materialmente il testo spiegando alcuni elementi che possono creare una certa difficoltà. Naturalmente certe difficoltà nascono non dal testo stesso, ma dalla comparazione fra i testi. E' giusto che noi cristiani riusciamo anche a capire che ci sono nei testi biblici alcune apparenti discordanze e dobbiamo cercare di capire perché esistono queste discordanze. Ripeto, sono solo apparenti, ma di fatto possono anche impressionare. Allora, vediamo alla linea 26, dopo l'introduzione che abbiamo fatto l'altra volta, adesso facciamo una sintesi. Ci sono due modi per analizzare questo testo nel suo insieme e questi due modi mi danno un certo risultato. Il primo è la cosiddetta struttura semantica del testo, cioè cerchiamo il significato. Il secondo invece si adoperano criteri di tipo puramente narrativo teologico, cioè come viene narrato, quali sono i contenuti più importanti. ora, alla linea 27 voi notate che c'è un'introduzione, i primi undici versetti, e poi ci sono, diciamo, delle corrispondenze. Alla linea 29 voi trovate la chiesa di Gerusalemme guidata da Pietro. Sono più o meno i primi sette capitoli. Alla linea 33 voi trovate Paolo come testimone di Cristo, sappiamo che subito dopo ci dovrebbe essere il martirio. A specchio, scendendo e salendo di un gradino, noi troviamo alla linea 30 le prime missioni della chiesa, mentre alla linea 32 troviamo le missioni in Macedonia, Grecia e Asia Minore. Al centro si colloca il concilio ecumenico di Gerusalemme. Sembra dunque che Luca, nella sua stesura finale, abbia voluto in qualche maniera porre proprio, quasi al centro geografico del libro, questo incontro tra i grandi personaggi della chiesa nascente, i quali, pur partendo da posizioni diverse, sono riusciti a trovare il punto di convergenza, non tanto con una specie di compromesso politico, quanto piuttosto cercando di ragionare sul dato più vero, così come emergeva dagli avvenimenti. Questo dunque è una visione, chiamiamola strutturalistica, di significato, cioè che significato ha una parola? E noi riusciamo a trovare il significato della parola attraverso determinate tecniche comparative. Ma guardate che lo stesso discorso si può fare di un libro, che significato ha il libro? Si adoperano altre tecniche, proprio per poter dire che il libro nel suo insieme ha questo tipo di perno significativo. Mediante degli Apostoli, se noi applichiamo queste regole, che non sto a spiegarvi perché, a nessuno piace fare metodologie, ma soprattutto nessuno piace ascoltarla, perché è una rottura. Come si suol dire da noi, se come ci cerca dei nasi. Però, una volta che si impara un certo metodo, poi si ottengono ottime risultati. Nel caso concreto, se noi applichiamo queste regole, dunque vediamo che stranamente il centro degli Atti degli Apostoli non è la missione, ma è il concilio. Se noi invece scegliamo un'altra metodologia, quest'altra metodologia mi dà quest'altro risultato. Siamo alla linea 35. Dunque, gli Atti degli Apostoli si spaccano in due blocchi abbastanza equivalenti. Il primo blocco parla del cristianesimo primitivo nel mondo ebraico e ci presenta la figura di Pietro. E arriva fino al capitolo 15, cioè fino al concilio di Gerusalemme. La seconda parte invece degli Atti è presente il cristianesimo nel mondo pagano e la figura dominante è Paolo. Questa visione degli Atti e degli Apostoli è quella classica, quella che ci viene addirittura dall'esegesi del 1800. E' un fondamento molto buono. Certamente conoscere tutte e due le prospettive significa essere leggermente più ricchi. Se voi notate, sotto i due blocchi Pietro da una parte e Paolo dall'altra, io vi ho messo 19 sommari. Cosa sono questi sommari? Ne abbiamo accennato già l'altra volta. Sono brevissimi testi. Sono due, tre, righe, quattro. In cui Luca cerca di riassumere brevemente quelli che erano i parametri generali di vita del cristianesimo nascente. Se voi notate, ce ne sono ben quattordici nella prima parte e ce ne sono appena cinque nella seconda parte. Per quale motivo? Noi sappiamo che Luca è un cristiano della seconda generazione. Non è un cristiano che ha conosciuto direttamente Gesù Cristo. Lui non ha tante documentazioni della Chiesa nascente. Quelle poche che ha le scrive, però si accorge che sono poca cosa nei confronti di ciò che ci sarebbe stato bisogno di conoscere. E allora riempie questi vuoti informativi con quello che poteva essere la testimonianza dello stile di vita che i vecchi cristiani della prima generazione erano soliti ripetere. Classico delle civiltà orali. Provate a ascoltare i nostri vecchi. Ai nostri tempi si faceva così. Ai nostri tempi si faceva colare. Ma non è che narrino troppi fatti. Danno quei sommari i nostri vecchi per dire qual era il comportamento. Non che stiano a spiegare gli avvenimenti. Dicevano noi ci comportavamo in questa maniera. Luca prende nota e infila dentro al testo questi ricordi della prima generazione cristiana. Manca la narrazione degli avvenimenti però lui testimonia queste forme di garanzia di come fosse il cristianesimo appena nato. Ecco perché ne troviamo tanti nella prima parte. Qui sono i cristiani vecchi che parlano a Luca. In questi sommari noi troviamo la testimonianza di questi anziani, di queste donne anziane che hanno conosciuto Gesù Cristo e che hanno cominciato a vivere il cristianesimo da subito sulla propria pelle. e spiegano a Luca che è della seconda generazione quale fosse il loro stile. Lui prende nota e poi lo trascrive. Il fatto invece che noi abbiamo pochissimi sommari nella seconda parte è dovuto al fatto che la seconda parte, narrando le vicende di Paolo e sapendo che Luca è compagna di viaggio di Paolo Paolo scrive la propria esperienza non ha bisogno di fare eccessivi sommari non ha bisogno di dire ai miei tempi si faceva così perché lui quando scrive beh, quelli sono i suoi tempi quindi non ha bisogno di dire noi quando eravamo giovani ci comportavamo in una certa maniera. Ci sono queste cinque pennellate perché sappiamo che Luca scrive gli Asi degli Apostoli in epoca tardiva quindi quando anche lui aveva già una certa età e potrebbe darsi che queste siano testimonianze di Luca nei confronti dei cristiani della terza generazione quelli per i quali lui scrive. Questo è il quadro generale. Quanto importanti sono questi sommari? Al di là del valore storico così come lo abbiamo visto esiste un valore teologico importantissimo. Noi pian piano non li faremo tutti prenderemo in considerazione alcuni in maniera particolare quelli che vi ho sottolineato cioè il terzo, il quinto e il sesto gli altri forse li lasciamo perdere se abbiamo tempo li prendiamo in considerazione e se no pazienti. Questo dunque è il quadro generale diciamo così per dominare il contenuto degli atti e poterli leggere anche con una certa sapienza. Qualunque dei due schemi scegliate sappiate che questi sono strumenti di lettura non sono la verità del testo sono mezzi che si adoperano per capire ciò che è più importante e ciò che è meno importante. Andiamo alla pagina 2 e adesso incominciamo. Noi la volta scorsa abbiamo preso in considerazione i primi due versetti dove abbiamo scoperto che c'è lo stesso destinatario abbiamo più o meno scoperto che l'opera di Luca degli Atti è legata al Vangelo oggi incominciamo a prendere contatto con i testi con il significato e il contenuto dei testi ma anche con le problematiche dei testi. Siamo alla linea 37 Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio mentre si trovava a tavola comeci ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere che si avventisse la promessa del Padre quella disse che voi avete udito da me Giovanni ha battezzato con acqua voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. di fronte a un brano così semplice noi ci chiediamo dove stanno le difficoltà ce ne sono tante proviamo a vedere quelle più importanti perché Luca sente il bisogno alla linea 37 di sottolineare che si mostrò ad essi vivo con molte prove dunque proviamo a guardare il vocabolario usato da Luca e forse cominciamo a trovare pian piano le risposte alla linea 42 parestese di per sé sarebbe collocarsi davanti tu stai camminando e qualcuno dal lato della strada ti si mette davanti questo è più o meno il valore del verbo quindi più che apparire il verbo indica qualche cosa che ti intralcia il cammino che ti obbliga a fermarti che ti obbliga a misurarti con questa realtà che ti si para davanti e quindi noi potremmo dire così più che egli si mostrò ad essi egli si parò davanti ad essi nel senso che gli ha obbligati a prendere contatto con questo dato non è stata l'apparizione della Madonna che se tu vuoi la guardi se no fai a meno ma è un apparire che sei costretto a vedere questo indica il testo perché altrimenti non vai avanti il secondo elemento importante è questo sempre in greco siamo alla terza parolina zonta che non è il cognome tipico del Veneto ma è un participio presente alla forma accusativa è un complemento è un complemento oggetto zon dal verbo zoo che vuol dire vivere vivente ora quando noi esaminiamo i testi dovremmo stare attentissimi ai tempi dei verbi questo è un participio presente adesso facciamo una piccola parentesi e spieghiamo un pizzichino di grammatica greca a noi che ce ne importa la spieghiamo e buonanotte poi vogliamo imparare greco va benissimo non vogliamo impararlo si va in paradiso lo stesso nel mondo greco esistono due tempi per indicare un'azione se io adottero un tempo dico che l'azione io la vedo adesso ma si prolungherà all'infinito è un tempo lineare se io adottero un alto tempo vuol dire che io testimonio che adesso l'azione c'è ma non ti garantisco se l'azione c'era prima e se l'azione continuerà dopo non lo so quando io adottero un participio è molto importante sapere quali dei due tempi vengono adoperati se io adottero un tempo presente garantisco che l'azione c'è ed è lineare continuerà per sempre se invece intendo dire non mi pronuncio su prima non mi pronuncio su dopo garantisco che adesso c'è questa si chiama azione puntuale e adottero il participio a orist qualcuno di voi ricorderà che l'auristo è un tempo storico reminiscenso del vecchio liceo però attenzione è tempo storico lì dove ha l'aumento cioè ha qualche cosa che si aggiunge all'inizio del verbo la vocale che incomincia il verbo viene allungata o se il verbo incomincia per consonante si rifila davanti una epsilon ma lì dove l'auristo non ha l'aumento come nel participio non ha più valore di tempo passato ma indica la qualità e basta dell'azione se Luca avesse voluto dire questo è un tizio che era vivo ma poi sarebbe morto avrebbe adoperato l'auristo qui invece adopera il presente e quindi già Luca sta dicendo questo tizio che mi si para davanti che mi obbliga a riflettere su di lui è un tizio che possiede la vita da adesso per sempre non è un tizio che adesso possiede la vita e poi muore capite la differenza ecco perché la traduzione italiana si presentò ad essi vivo e scialba non ha spina dorsale cercare ogni tanto di andare al testo greco è importante perché queste sfumature le troviamo nella lingua di origine nella traduzione non può comparire perché il nostro sistema verbale è completamente diverso da quello greco ecco perché ogni tanto vi torturo con un po' di greco un po' di ebraico non per il capriccio di mettere a dura prova la nostra attenzione da domenica mattina ma perché è necessario per capire il testo facciamo facciamo un'altra piccola facciamo un'altra piccola fatica dice con molte prove ora ora voi dovete avere la pazienza di decifrare piano piano l'ultima parolina greca della linea 42 tec 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 merius tec merius naturalmente dire così le cose significa dire niente ma esiste in italiano la parola tecnica sentite tec la stessa radicale cosa vuol dire tecnica in italiano una capacità una abilità di saper fare una cosa cioè non si chiede l'anima alla tecnica non si chiede al meccanico di essere il poeta del motore si chiede che sia competente che quando mette mani possieda la tecnica per saperlo aggiustare chiaro? dunque la tecnica è ciò che noi potremmo chiamare il dato oggettivo la poesia è il dato soggettivo la tecnica è il dato oggettivo questa tecnariois sarebbe quelle parti oggettive dell'esperienza che si fa di questo tizio che vive per sempre cioè esperienze oggettive quindi trasmissibili non sono impressioni ma sono dati mi spiego? per questo in italiano hanno tradotto con una espressione con molte prove le prove sono qualche cosa che si possono controllare perdone mangiava toccava parlava diceva qualche parolaccia le mogli provino a dire al proprio marito stolto e tardo di cuore poi vedete poi vedete che reazione ha il vostro marito voi provate a dire alle vostre moglie stolta e tardo e tardo di cuore ci arriva un cefone sì che non sono mica parole dolci queste qua eppure lui le ha detto senza mezza misura ma quello che noi interessa è che queste non sono prove una prova per esempio che viene data nel Vangelo è che non essendo un fantasma mangia quella è una prova un'altra prova è quando lui dice a Tommaso infila il dito ci sono i buchi non sono un altro sono io anche questa è una prova un'altra prova è la pluralità delle testimonianze che porta Paolo nella prima lettera ai corinthi al capitolo 15 dove Paolo dice sì è vero è apparso i dodici ma sotto voce è in punta di piedi questi potrebbero essere delle persone interessate a dire che è risorto ma parla a più di 500 persone in una sola volta questi non sono interessati a dire che è risorto eppure sono stati i protagonisti di questo dato è un dato oggettivo dunque già nella chiesa nascente c'è il bisogno di esprimere con chiarezza che la risurrezione non è una emozionalità del gruppo primordiale della chiesa non è un fatto interiore non è dire Cristo è vivo dentro di me Cristo è vivo fuori di me è autonomo e ogni tanto mi ha dato anche delle ripassate questo è un dato importante per tutte le generazioni noi non crediamo alla risurrezione perché crediamo noi crediamo alla risurrezione perché ci sono le prove queste prove non hanno la valenza storica che oggi la scienza storica dà alle prove noi diciamo ci sono le cosiddette prove di ricaduta mi spiego se c'è una realtà invisibile e c'è una realtà visibile concreta esperimentabile e questa realtà visibile concreta esperimentabile dialoga con la realtà invisibile io non vedo la realtà invisibile ma constato che queste persone dialogano verifico se sono sane di mente verifico se sono veri o falsi cioè se dicono le bugie o sono persone veritiere dopo di che il problema è finito se dico queste persone sono sincere sono sane di mente io ho una prova che c'è qualche cosa anche se non lo dico se c'è un manto di neve e vedo che ci sono delle orme dico qualcuno è passato io non l'ho visto passare ma ho visto le conseguenze del suo passaggio cioè le orme noi ci troviamo di fronte a questo tipo di prove noi cioè possiamo scrutare quelli che sono le orme del Cristo risorto perché a distanza di duemila anni il tempo non è che possiamo annullarlo non siamo là siamo qui ed è l'unica cosa che possiamo fare trovare le tracce e queste tracce ci sono e sono abbondanti quando faremo un corso sulla risurrezione otto incontri sulla risurrezione allora parleremo anche di questo il secondo elemento che crea una certa difficoltà in questo racconto sono questi 40 giorni perché crea difficoltà questi 40 giorni prendete il Vangelo di Luca ci siamo tutti Luca capitolo 24 guardate che quella che stiamo facendo è un esegesi veloce quindi non dite sono stata una lezione di esegesi no l'esegesi è più perfida siamo al capitolo 24 di Luca andate al versetto 1 il primo giorno della settimana cioè bello e vai domenica sabato lunedì mettetevi d'accordo allora per gli ebrei la settimana finiva con il sabato il primo giorno lavorativo della settimana ebraica è il giorno dopo il sabato quello che noi oggi chiamiamo domenica lavoravano il sabato cioè ieri ma da ieri sera dall'imbrunire di ieri sera cominciavano a lavorare perché per loro oggi è il lunedì cioè il primo giorno della settimana lavorativa venerdì era il weekend e il sabato era la loro domenica quindi loro sono anticipati di un giorno noi siamo sfasati di un giorno rispetto a loro prima giorno della settimana sarebbe la domenica le donne la domenica mattina cioè il primo giorno della settimana vanno guardano non c'è pandemonio vanno per gli apostoli non si credono Pietro va constata che le donne hanno ragione ma non capisce si capisce era Pietro a Pietro che vi chiedete di cuore ma non la testa la domenica c'è la domenica